Grazie a Milano, noi siamo qui perché siamo dell'associazione Città-Mondo, siamo qui per affermare che io sono Charlie, dire che io sono Charlie vuole dire riaffermare la libertà, le libertà, le diversità. Allora siamo qui perché tutte le comunità stranieri, comunità migranti di Milano hanno capito che si può essere Charlie e dunque hanno cominciato a fare un cammino per fare nascere un'associazione, un coordinamento molto grande senza differenza perché la città di Milano è un terreno fertile che ti permette di fare questo, di affermare tutte le difficoltà, mettere tutti assieme le comunità, ciascuno con la sua diversità, con la sua cultura e trovare lo spazio. Dunque è per questo che in questo giorno abbiamo deciso di venire qua perché è una cosa che è uno dei... la democrazia e le libertà devono essere custodite e dobbiamo batterci per questi grandi principi, questi grandi valori. Vi ringrazio perché la risposta massiva della città dimostra che c'è posto per tutti e che tutte le comunità possono camminare assieme. I nostri fratelli musulmani sono dentro città mondo e anche lì assieme a tutte le forme di religione, la religione cattolica, la religione ortodossa, siamo lì a dialogare assieme. E questo deve essere lo spirito del futuro di un Milano che sta cambiando, un Milano che progressivamente diventa sempre un Milano multietnica, un Milano che diventa città mondo. E fra poco sarà anche città mondo perché veramente ci sarà l'Expo che dimostrerà che i popoli del mondo saranno qui e assieme dobbiamo camminare assieme. Grazie!